Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un video speciale! Sì, perché da quando Bradivo Furioso è diventato un creatore ufficiale dell'Avlarium ebbene abbiamo accesso ai giveaway mensili di che cosa si parla e come partecipare ve lo dirò dopo la sigla Bene, 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 allora uno dei privilegi di far parte insomma della partnership Complarium come quello di avere accesso ai giveaway ma in realtà non basta essere semplicemente dei creatori di contenuti bisogna anche essere dei creatori di contenuti con un certo seguito e questo è merito vostro perché servono almeno un po' di iscritti e servono almeno un po' di visualizzazioni nei video per accedere al tier necessario ai giveaway e noi lo abbiamo raggiunto quindi nel caso in cui voi vinciate qualcosa attraverso il sistema che tra poco vi farò vedere beh sappiate che in gran parte è merito vostro Bene, 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 che cos'è un giveaway? È un regalo che l'Avlarium ci fa e questo regalo ammonta 540 gemme e una scheggia antica che 5 di voi possono vincere ogni mese Ok? Come fare? Perché dovevamo creare un modo insomma per poter selezionare 5 di voi? Beh abbiamo ritenuto che è più semplice possa creare un'estrazione su Discord ci sono dei programmi, dei bot che permettono di gestire questa cosa completamente in automatico e l'abbiamo ritenuto il metodo più semplice ed intuitivo per tutti soprattutto perché la cosa doveva essere su base mensile quindi ogni mese voi troverete questo annuncio che dovrò fare, che farò io personalmente insomma e che vi taggerà tutti quindi se avete le notifiche attive per i server Discord del canale trovate il link in iscrizione se non siete ancora iscritti ma in quel caso vi arriverà una notifica in cui vi farò sapere che i giveaway per quel mese sono ufficialmente partiti e quindi voi non dovrete fare altro che spostarvi qua sotto e lasciare un qualsiasi tipo di reazione ok? Il sistema vi conteggerà e vi terrà di conto nel momento in cui bisognerà fare l'estrazione per questa edizione abbiamo messo tre giorni di tempo insomma per poter fare la propria candidatura per poter immettere la propria candidatura bene, poi si vedrà nel prossimo futuro se dovesse bastare meno tempo per esempio, dipende da voi ok? comunque per adesso sono tre giorni oggi è venerdì quindi tre giorni vuol dire lunedì alle 13.33 comunque l'orario e la data di scadenza li vedete qui voi non dovete fare altro che inserire la vostra emoticon e siete tranquilli il vostro l'avete fatto allo scadere del terzo giorno e dell'orario indicato se avete vinto il sistema vi avviserà con una notifica quindi comparirà un nuovo messaggio qua sotto preparato dal bot che è compilato automaticamente dal nostro giveaway bot che vi taggerà quindi verrà fuori il vostro nome utente con chioccio la nome utente e quindi sarete sicuri di aver vinto qualcosa se vi è andata bene e avete vinto dovete scrivermi a me ok? quindi dovete cliccare proprio sul mio nome qui e poi mandarmi un messaggio privato nel momento in cui voi mi mandate un messaggio privato l'unica cosa che dovete scrivermi è il vostro id utente il vostro id utente lo trovate qui quindi cliccate sul vostro avatar andate su info copia id incolla sul messaggio che manderete a me personalmente e poi io farò avere i vostri dati all'Aplarium quando riceverete le vostre gemme? bene l'Aplarium rilascia i premi per i giveaway il 25 del mese ok? quindi anche se noi raccogliamo i vostri dati leggermente prima sapete che il giorno in cui l'Aplarium consegna è il 25 del mese una volta che vi sono arrivate le gemme e la scheggia fatemelo sapere così siamo sicuri che è andato tutto bene ok? bene allora in realtà il video è molto molto semplice molto molto rapido perché questa voleva essere soltanto una guida su come partecipare come fare e come vincere insomma qualcosa di utile per il vostro account fatemi sapere qua sotto nei commenti se intendete partecipare se vi garba l'idea so che magari qualcuno di scordo poteva non garbare però portate patenza questo era il metodo più semplice più immediato più intuitivo per far sì che tutto funzionasse nel migliore dei modi e poi magari andiamo anche a spingere un po' il server discord che bene fa sempre io non ci guadagno niente da questa cosa ve lo dico semplicemente è un servizio per voi che sono ben vieto di portare sul canale bene allora voi iscrivetevi se vi va se vi va bene e poi condividete con tutti mi raccomando questo è un video da condividere più possibile con i vostri compagni di clan con i vostri amici che giocano a raid perché più gente partecipa è più probabile che qualcuno vinca qualcosa questo è BradyP Furioso siate curiosi rimanete BradyP grazie a tutti Grazie a tutti.